Come vedete adesso lui si è fermato, quindi lui può tranquillamente allentare la sua discesa e scendere alla velocità che vuole. Questa è la cosiddetta manovra di corda doppia. E avete visto la corda come si è allungata? Infatti perché è una corda dinastica, una corda elastica. Ecco, quello che vi è fatto, vorrebbe...